Incendi, armi, droga, estorsioni e forniture imposte. La pesante ombra della stida in città ha consentito ai PM della Didia di Caltanissetta di tracciare le vie battute da quello che sarebbe stato un gruppo criminale sempre pronto a colpire comandato dai fratelli Bruno Di Giacomo e Giovanni Di Giacomo. I PM Nisseni hanno chiuso le indagini dopo gli arresti degli scorsi mesi al termine del blitz Stella Cadente. E' stato fissato il giudizio immediato per 27 coinvolti, tutti raggiunti da misure di custodia cautelare. Davanti ai giudici del tribunale dovranno presentarsi il prossimo aprile. Il provvedimento riguarda i due fratelli di Giacomo, Giuseppe Alessandro Antonuccio, Giuseppe Antonuccio, Salvatore Antonuccio, Samuele Antonio Cammalleri, il collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, Luigi D'Antoni, Vincenzo Di Giacomo, Rocco Di Giacomo, Vincenzo Di Maggio, Giuseppe Giacquinta, Calogero Daniele Infurna, Emanuele Lauretta, Rosario Marchese, Gaetano Marino, Giuseppe Nastasi, Nicola Palena, Gianluca Parisi, Alessandro Pennata, Benito Peritore, Andrea Romano, Filippo Scerra, Alessandro Sciglio, Gaetano Simone, Giuseppe Truculento e Giuseppe Vella. La maxindagine si è incrociata con quella parallela ribattezzata leonessa condotta dai magistrati della procura di Brescia. La stida locale sarebbe stata armata e capace di controllare settori economici imponendo forniture e società di favore. Gli inquirenti hanno ricostruito il presunto organigramma criminale anche attraverso le dichiarazioni del giovane collaboratore di giustizia Giovanni Canotto che si è autoaccusato di diversi reati. Sarebbe stato a disposizione degli stidari mettendo a segno soprattutto danneggiamenti. Sono state le sue dichiarazioni a rafforzare l'impianto accusatorio che adesso verrà valutato in giudizio.